Assessore Scaiola, in merito alle contestazioni sul piano casa c'è preoccupazione da parte degli operatori sul territorio che si chiedono la legge è attuale, è bloccata, è ferma, in che stato siamo? La legge non è assolutamente bloccata, la legge è in vigore a tutti gli effetti al 100% nella sua interezza. Il governo si è appellato facendo le osservazioni su due articoli alla Corte Costituzionale, quindi finché la Corte Costituzionale non si andrà a esprimere, la legge è nella sua interezza valida. Nel caso in cui la Corte Costituzionale dovesse dare ragione al governo, verrebbero a decadere gli unici due articoli che sono stati contestati, che sono articoli che riguardano interamente l'applicazione del piano casa all'interno dei parchi, uno che riguarda la variante che dovrebbe fare l'autorità del parco e uno che riguarda le autorizzazioni paesaggistiche che noi dovremmo rilasciare, quindi da un punto di vista siamo molto sereni, però che cosa farà la Regione Liguria? Noi impugneremo questo tipo, anche noi ci appelleremo alla Corte Costituzionale perché riteniamo che il piano casa, così come è fatto, sia un'ottima legge. Però stiamo già iniziando un discorso, un confronto con il governo, perché visto che i due aspetti che ci vengono contestati sono estremamente marginali, sono tecnici ma allo stesso tempo non entrano nel DNA dello strumento di legge, ci confronteremo per poterli magari concordemente al governo correggere e poi fare in modo che quindi le modifiche possano andare bene e che quindi che la legge interamente possa andare avanti senza attendere il ricorso alla Corte Costituzionale. Contestazioni che lei ha definito di matrice politica? Assolutamente sì, perché noi in questi mesi ci siamo confrontati con tutto il territorio della Liguria, abbiamo incontrato un migliaio di persone, le categorie, per fare un'ottima legge richiesta e voluta dal territorio. Ovviamente questo ha creato anche molta enfasi da un punto di vista mediatico e soprattutto il mondo della sinistra si è scatenato contro, contro ma per ragioni ideologiche, contro solo perché lo fa il centro-destra e quindi automaticamente la sinistra deve dire che non va bene. E vorrei ricordare a tutti i cittadini che il piano casa nel 2009 è stato applicato anche dalla giunta Burlando, è stato Burlando della sinicola con un'amministrazione dove c'era anche SEL, lo ha portato avanti anche nel 2011, quindi sono solamente scuse strumentali perché quello che facciamo noi per loro deve andare assolutamente male. E anche questa polemica sui parchi, che anche i parchi erano già previsti nel piano casa di Burlando, mi fa un po' specie che tutte le associazioni ambientaliste, il FAI e quant'altro si scatenino contro il nostro piano casa quando già nel piano casa di Burlando erano previsti questo tipo di interventi. Noi però siamo sereni, abbiamo fatto una buona legge, un'ottima legge voluta dal territorio, molto applicata sul territorio che dà una mano ai cittadini, che dà una mano alle imprese. Quindi noi porteremo avanti con serenità questo nostro lavoro, ci confronteremo col governo, non ci interessano i braccio di ferro, ci interessa solamente poter lavorare con serenità. Ovviamente siamo disposti al dialogo, ma non siamo disposti ad accettare più strumentalizzazioni. La giunta Toti vuole cambiare la Liguria, è un impegno che ci siamo presi con i cittadini nel maggio scorso, diamo fastidio perché stiamo lavorando troppo, diamo fastidio perché vogliamo cambiare le cose. Questo lo abbiamo messo in conto, questo con Giovanni, col Presidente, ce lo diciamo tutti i giorni, però questo ci dà ancora più motivazione a fare bene. Il piano casa è sicuramente una legge che può fare bene al territorio.